Ma la tua è un coro? Normalmente canti un coro? Vivo in Amia e canto in un piccolo coro che si chiama Isad Vengeur. Molto piccolo? 11 persone da solito. Sei una presentanza. Vabbè, allora... Si chiama il coro? Si chiama il coro? Si chiama il coro, non è un segnale. Non capisco tutto. No, non importa. No, no. Allora, Isabel e il suo coro, un clitoride, credo. Molto piccolo. Bravo! Si non sapes donde sta tu clitoris, no te metas en ningún intrungulis. Una cuarta parte pago dell'omplica Busca piedra, encontrarà un gran amico. E se sientes un placer orgiasmico, è che mi allievii hasta il mondo critico. No, non importa che il cervello ti trappare, solo deixa che tuo corpo se relaje. E se non sapere, su contento todos los órganos tienen sus funciones para respirar tenemos los pulmones Jesús ha dicho que solo da placer un privilegio que se debe conocer hay clitoris de todos los tamaños de todos los colores y de todos los azores no es un botón es un alberg no es un botón no es un botón no es un botón no es un botón es un alberg es un perdento que vamos a defender que no es un botón 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 Grazie a tutti.